buongiorno ben trovati a consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa buongiorno con noi oggi naturalmente molto incentrato sull'inizio dell'avventura dei comics a lucca ieri primo giorno apertura con il botto della festa degli amanti del fumetto e del games perché sono stati staccati oltre 46 mila ingressi per la precisione quasi 47 mila quasi il 50 per cento in più del primo giorno dello scorso anno quindi come titola il tirreno cronaca di lucca comics l'inizio è col botto oltre 46 mila ingressi nella prima giornata intanto funziona il piano per la sicurezza e la viabilità ci sono stati tanti controlli auto rimosse e murte ad alcuni locali 21 auto rimosse 5 parcheggiatori abusivi sanzionati 2 multe per accattonaggio sul fronte dei controlli ai negozi del centro 5 gli esercizi sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico per 3 arredo non conforme alle norme di decoro e 2 per questioni alimentari c'è naturalmente una bella foto all'inizio come una bella foto c'è sulla prima pagina della nazione di lucca la festa di tutti 100 mila presenze all'esordio del comics and games perché si parla di numeri diversi perché se 47 mila sono stati biglietti staccati si presume che in centro ci sia stata la presenza di quasi il doppio delle persone perché essendo ieri giornata di festa c'è stata la possibilità per molti di frequentare la città e quindi di avvicinarsi al mondo dei comics noi naturalmente eravamo là per i nostri servizi e abbiamo analizzato anche la situazione del traffico che è quella che poi interessa tutti coloro che frequentano la viabilità intorno alle mura e allora vediamoci il primo servizio curato dalla redazione del tg noi un avvio in grande stile è di 47 mila biglietti venduti almeno 100 mila presenze in centro storico il bilancio del primo giorno di lucca comics and games 2017 ad aprire la giornata la tradizionale cerimonia di inaugurazione alla presenza delle massime autorità civili e militari per il virtuale taglio del nastro sono stati scelti i prati di piazzale a rigoni dove è stato ricostruito il labirinto che campeggia sull'ingresso del duomo di san martino simbolo della complessità della vita e che è stato raffigurato sulla maglietta della bimba che appare sul manifesto ufficiale del festival dopo il record assoluto della passata edizione con 268 mila venduti non sarà facile migliorarsi quest'anno ma il presidente di lucca crea francesco caredio mette subito le cose in chiaro come fine statutario abbiamo quello intanto soltanto di chiudere con un bilancio in pareggio noi non deve costare nulla la città anzi qualcosa portiamo mi sembra la città poi il resto i numeri i miei numeri sono soltanto quelli di bilancio i record non ci interessano sinceramente tanti tantissimi gli eventi e le novità di questo primo giorno piazza santa maria per il primo anno ospita il festival e lo fa in maniera spettacolare con tre grandi padiglioni dedicati ai videogiochi ricchi di colore musica e ambientazione tra le curiosità che abbiamo scovato vi segnaliamo lo stand dell'agenzia spaziale italiana ospitato nel padiglione di net addiction in piazza san giusto dove la fantascienza incrocia la scienza e in particolare il futuro davvero molto vicino della colonizzazione di marte nella chiesa dei servi la self area tanti gli espositori e davvero tantissimi lettori che si avvicinano alle case editrici indipendenti ad animare la prima giornata la solita coloratissima marea di cosplay ma anche una rappresentanza del carnevale di viareggio con un gruppo di artisti della compagna del carnevale che hanno letteralmente conquistato il pubblico di piazza san michele con i loro costumi e le travolgenti coreografie giovedì secondo giorno tra gli ospiti più attesi robert kirkman il creatore della saga fumetti the walking dead e poi all'area music i mitici oliver onions servizio con i fiocchi curato da lorenzo bertolucci e matteo bertuccelli andiamoci a vedere un po le pagine interne del tirreno per vedere cosa ne parla come ne parla il quotidiano di livorno la prima pagina è tutta dedicata ai comics 2017 c'è un approfondimento di barbara antoni si parla della presenza di visitatori in città che è quasi doppia rispetto a 47 mila biglietti venduti complice la via in concomitanza con il giorno di festa il risultato della prima giornata è stato di grande soddisfazione un anno fa nel 2016 il festival del fumetto iniziò il 29 ottobre era un venerdì e biglietti venduti si fermarono a quota 34 mila 32 12 mila e passa meno rispetto a ieri quella di oggi 2 novembre come quella del 5 domenica ultimo giorno della manifestazione a giudicare delle prevendite online si annunciano come giornate molto più leggere 31 mila 111 biglietti già staccati per oggi giornata più stanca anche perché non anche perché ridosso di una festa è ancora lontana dal fine settimana 30 mila per domenica 5 il clou si aspetta per venerdì e sabato 4 novembre le giornate del pieno fine settimana per sabato 4 novembre biglietti già acquistati in prevendita sono 47 mila 174 e c'è da aspettarsi che il numero limite di ingressi consentiti il contingentamento è 80 mila sia raggiunto solo in prevendita non troppo elevata finora la prevendita per venerdì 3 novembre siamo a 30 mila in tutto sono 185 mila i biglietti già sicuri e si spera di uguagliare il record di 271 mila presenze andiamo in mezzo perché perché nelle pagine interne del tirreno controlli dei vigili e negozi in centro 5 multe per occupazione comics 2017 rimozioni e lotta agli abusivi 21 le auto portate via con i carro attrezzi si parla anche dei problemi al real collegio un successo per ogards che ha creato qualche disagio e poi si parla anche di traffico e allora secondo servizio e poi continuo l'approfondimento sui comics secondo servizio della redazione del tg9 primo giorno di comics primo giorno di arrivi a lucca per gli appassionati di giochi e fumetti la giornata è iniziata con le code nella zona di porta santa maria via barsanti e matteucci e sulla bretellina da monte san quirico a causa del massiccio afflusso di auto verso il parcheggio delle tagliate il traffico a metà mattinata su questa parte di circonvallazione è andato quasi in tilt ma si è trattato di un disagio molto localizzato nel resto della città i disagi sono stati tutto sommato limitati come da prassi è stato chiuso il tratto di circonvallazione tra la rotatoria all'inizio di viale europa e la stazione ferroviaria per garantire la sicurezza dei pedoni che arrivano in centro dalla stazione rallentamenti al traffico ci sono stati proprio su viale europa ma in realtà è una situazione che si ripete molto spesso anche al di là dei comics nella prima giornata della manifestazione ciò che è saltato all'occhio è stata soprattutto la massiccia presenza delle forze dell'ordine ai varchi di accesso della città controlli ovunque e new jersey posizionati davanti alle porte allo scopo di scoraggiare eventuali azioni terroristiche il rafforzamento dei dispositivi di sicurezza era già scattato l'anno scorso ma è stato ulteriormente aumentato quest'anno anche in base alle nuove disposizioni entrate in vigore questa estate particolarmente affollata piazza santa maria new entry nella mappa dei comics dove è stato cambiato l'assetto del traffico per fare posto ai padiglioni di alcune importanti major dei videogiochi e allora avete sentito l'altro approfondimento guardiamo ancora la prima pagina stavolta torniamo sulla nazione stranger things fans in delirio per le star del telefilm netflix in codra per la mostra e un incontro poi ci sono state code ai treni con biglietterie e internet a singhiozzo comunque affari d'oro per tutti i locali quanto ai personaggi tambellini si mette alla gogna e castellani elogia la t-shirt anti satana si parla naturalmente del sindaco di lucca alessandro tambellini e dell'arcivesco italo castellani pagine interne l'allegra invasione eventi e folla stranger things in delirio per i divi di netflix incontro e mostra al baluardo sono stati migliaia i fans in coda a fine dell'incontro gli attori di stranger things hanno firmato un poster consegnato al presidente di lucca comics francesco caredio che lo ha mostrato come un trofeo consueto massiccio assalto alle postazioni di gioco sia nel padiglione games sia nella zona distaccata del medesimo settore alla cavallerizza esordio scrive pauro cera gioli con 100.000 presenze in città è lo stesso approfondimento che fa anche il tirreno si parla di quote raggiunte grazie ad abbonamenti biglietti e a presenze estemporanee ottima performance per lucca comics and games qui vanno aggiunti anche gli appassionati e i curiosi giunti da tutto il mondo sfogliamo ancora sempre allegra invasione alle 14 e 30 star trek discovery di netflix gli attori incontrano i fans e poi altri appuntamenti alle 10 all'auditorio in banca del monte di lucca alla sfida italiana fantasy alla tolkeniana alle 11 raina telgelmeyer fa da guida alla mostra stasera alle 21 e in concerto in san francesco l'orchestra del boccherini che esegue star wars e poi la magia dell'oliver onions sigle tv cartoon e colonne sonora una storia lunga più di 30 anni il ritorno dei fratelli de angelis si parla di musica per quanto riguarda i comics qui abbiamo la foto con alessandro tambellini alla gogna come riporta la prima pagina e che festa sia un evento che porta gioia nella nostra città il sindaco tambellini infila spiritosamente la testa ai polsi tra i ceppi un evento che porta gioia nella nostra città dice al via ufficiale il vescovo l'arcivescovo italo castellani una curiosità sacro e profano il vescovo benedice la t-shirt anti diavolo a molti sarà sembrato forse insolito l'intervento dell'arcivescovo di lucca in occasione dell'apertura ufficiale di lucca comics and games a parte l'essere il padrone di casa vista la location di piazzale a rigoni consiglio castellani ha benedetto la maglietta della bambina protagonista del poster che si fa beffe del diavolo presente sul celeberrimo ponte bene ah e poi grandissima attesa c'era e grandissimo successo è stato per l'incontro in san francesco con gli eroi gli attori di gomorra salvatore esposito all'incontro con i fan il divo di gomorra tra genni e videogame sono un boss dice ma soltanto per gioco salvatore esposito ha incontrato i fan per parlare oltre che di gomorra anche di destini 2 bene è tutto per la prima parte di buongiorno con noi tra poco ci ritroviamo dopo la pubblicità ben ritrovati buongiorno con noi abbiamo iniziato naturalmente con i comics proseguiamo con i comics anche il tirreno riporta il grande successo a comics 2017 per le star di stranger things la serie netflix che hanno conquistato l'auditorio un post esauriti per un eccezionale incontro con i protagonisti parlano i felpati i giovani che lavorano nei padiglioni per cinque giorni il guadagno medio è di 400 euro l'amore per lucca è il filo che ci unisce marco tiri innanzi un felpato è per sempre scrive il collega o quasi sono giovani lucchesi molto spesso studenti universitari e fedeli alla causa di lucca comics game games visto che una volta che entrano a far parte della manifestazione difficilmente le abbandonano fino a diventare un punto di riferimento anche per le dizioni a seguire un esercito firmato da 500 soldati molti sono studenti non tutti sono appassionati di fumetti a fine festival l'abitudine è mangiare una pizza tutti insieme c'è poi anche una marcord comics l'iniziativa 1984 la fiera valle tagliate oggi sul tirreno il regalo il manifesto che rappresenta uno splendido yellow kid volante ci sono delle foto di archivio perché piazza napoleone non era più ritenuta idonea per i padiglioni finiamo anche di vedere come la nazione ha chiuso le pagine dei comics con una grande rassegna fotografica la ricostruzione di un ambiente di stranger things e poi abbiamo batman dagli zombie alle principesse passando attraverso star del film come maleficent fino a batman ai protagonisti di vecchie ma celeberrime pubblicità benvenuti a lucca comics and games e soprattutto buon divertimento tanti bambini poi la presenza anche dei vigili del fuoco con un uomo che porta un pennello un pennello grande un grande pennello recitava un memorabile spot l'amico in bici ha scelto chiaramente il grande pennello poi ancora immagini e foto che arrivano in questo primo piano di lucca questo per chiudere la vicenda comics sul cartaceo andiamo invece sull'online lo facciamo con lucca in diretta lucca comics and games che dice che sono stati 46.700 gli spettatori presenti per il via controlli a tappeto multati 10 abusivi locali sanzionati per il problema del suolo pubblico abbiamo già visto sul tirreno e poi ci sono naturalmente anche tante foto che arrivano dagli stranger things a a san francesco ma non solo sempre per lucca comics and games poi trovate la guida per gli eventi della giornata di oggi e quindi da non perdere con tutti gli appuntamenti in centro in ogni padiglione si parte da questa mattina alle 10 si arriva questa sera alle alle 20 e 45 con il concerto in san francesco del dell'orchestra del boccherini vi ricordo poi da non perdere tutte le sere dei comics alle 21 su noi tv il nostro consueto appuntamento con tg comics curato da lorenzo bertolucci da maffei da bertuccelli tutta la nostra redazione al lavoro per carpire curiosità e immagini bellissime dalle dalle pieghe dei lucca comics and games oggi la giornata è piuttosto nuvolosa speriamo che il tempo regga perché sarebbe davvero un peccato per questa invasione silenziosa e gioiosa di di appassionati di fumetti e di giochi festival da mille eventi scrive ancora la lucca in diretta di riguardo agli eventi legati a lucca comics and games ieri era il primo novembre giornata di bilanci anche di quanto avvenuto nella nostra città e nelle zone limitrofe per la sera di halloween con grandi feste a borgo ammozzano ma quest'anno anche ad alto pascio e a monte carlo una tradizione che sta prendendo sempre più piede ci vediamo allora il servizio realizzato sulle immagini di abramo rossi a borgo ammozzano 17 di halloween celebration una delle più grandi feste del 31 ottobre in italia quest'anno la manifestazione ha visto un servizio d'ordine davvero imponente con il posizionamento di new jersey ad ogni varco e la presenza massiccia delle forze dell'ordine anche il traffico non ha subito disagi se si esclude lo stop durante i fuochi d'artificio nonostante la serata fosse fuori dal calendario dei comics di lucca ha registrato la presenza di un notevole pubblico dopo un inizio piuttosto incerto dopo le 20 c'è stata l'invasione halloween celebration quest'anno è giunta la sua 24esima edizione sì siamo vicini alle nozze d'argento se così si può dire un halloween celebration più vivo che mai una grandissima capacità di attrarre persone da tutta italia e non solo nella piazza davanti il comune come ogni anno ha preso il via la parte istituzionale e artistica dopo il saluto del sindaco il risveglio della bella lucida manzi interpretata da alcuni anni da laura mugnaini e il successivo incontro con lucifero davide gennai da lì si è formato il corteo che ha attraversato tutta borgo ammozzano aperto dai mangiafuoco guidati da leandro che da 22 anni partecipa alla manifestazione oltre alle forze dell'ordine c'erano anche molti steward e tanti volontari l'associazione dei carabinieri presente con 25 unità e poi il fondamentale contributo della misericordia di borgo ammozzano per l'occasione coadiuvata da altre misericordie della zona presenti con oltre 100 volontari e alcune unità di emergenza mobile all'interno della manifestazione alla fine come ogni anno la bella lucida è salita sul monumentale ponte del diavolo per l'ultimo abbraccio con lucifero prima di essere gettata nelle fredde acque del serchio e poi l'ira del diavolo manifestata con uno straordinario spettacolo pirotecnico andiamo quindi sulla nazione le pagine interne le cronache partiamo qua in basso da inferi leggende ponte del diavolo celebration non delude le attese in 30.000 per la serata conclusiva della festa di allunghi è stato preso letteralmente d'assalto dai presenti il tunnel del terrore così come altri percorsi allestiti in tutto il centro storico di borgo ammozzano li avete visti spettacolari e suggestivi i fuochi di artificio che hanno chiuso la serata come tradizione al ponte del diavolo al termine del processo alla nobile donna lucida manzi parliamo anche di indotto un evento ha detto il sindaco patrizio andreucetti che ha una valenza economica rilevante rappresenta una boccata di ossigeno per le attività del comune c'è stata anche qualche polemica alcuni ambulanti si sono lamentati per il prezzo del d'ingresso troppo alto la foto con la tradizione il corteo della nobile donna lucida manzi che esce dagli inferi attenzione però perché c'è anche una nuova tradizione sulla piana halloween mostri e streghe invasione mascherata la festa fa registrare il tutto esaurito qui siamo agli eventi fra monte carlo ed alto pascio per assicurare una festa senza rischi c'è stata una vera e propria mobilitazione sia a monte carlo che ad alto pascio che coinvolto polizia municipale carabinieri e volontari specializzati della misericordia anche nei paesi della piana e allora altro approfondimento della redazione del tg noi dedicato ad halloween alto pascio una grande folla ha decretato il successo della prima edizione dell'alto pascio halloween horror festival circa 10 mila persone secondo le stime del comune si sono ritrovate nella città del tau per celebrare tra brividi e risate la notte più orrorifica dell'anno tanta gente nei bar nei ristoranti e nei negozi grande affluenza al mini tunnel gratuito riservato ai bambini che è stato visitato da circa 3000 persone poi musica mercatini e spettacoli itineranti fino a mezzanotte con il centro storico di alto pascio che è stato letteralmente invaso da famiglie bambini mascherati e figuranti questa sera abbiamo voluto portare alto pascio halloween è un altro appuntamento importante per portare avanti quello che è il nostro obiettivo il nostro scopo ovvero valorizzare alto pascio renderla sempre un paese più vivo e partecipato la serata è stata organizzata da bsm event insieme al comune e visto il successo ottenuto non c'è dubbio che sarà replicata anche il prossimo anno è passato halloween alto pascio si appresta già ad iniziare la lunga volata verso le festività natalizie e mentre dal topascio succedeva questo pochi chilometri di distanza altre 10.000 persone questa volta a monte carlo un record assoluto di presenze vedete le immagini certificate dagli addetti alla sicurezza spiega vittorio fantozzi al governatore della misericordia mario davini vittorio fantozzi al sindaco per una manifestazione pensata per le famiglie che non ha fatto registrare alcun disagio grazie al nuovo piano della sicurezza realizzato dagli organizzatori approvato dalla prefettura un'organizzazione che ha visto in perfetta sinergia polizia municipale carabinieri volontari specializzati della misericordia davvero un appuntamento bellissimo legato al ponte del diavolo scusate alla festa di halloween andiamo poi nelle pagine interne della cronaca di lucca per andare in garfagnana e parlare stavolta di referendum referendum legato alla fusione dei comuni di san romano garfagnana fasciandora e pieve fasciana arriviamo eccolo qua l'approfondimento è sul tirreno arriva da pieve fasciana comune unico i sindaci vanno avanti sulla fusione angelini mariani e lunardi si fanno forti del voto dei cittadini altro che sconfitta la maggioranza si è espressa per il sì uniamoci poi andiamo al voto e vedremo questo francesco angelini che è il sindaco di pieve fasciana c'è anche una risposta il comitato dei contrari dice a un tentativo di golpe bisogna rispettare le regole non abbiamo scherzato rispettiamo le regole il comitato per l'attuazione della costituzione alta valle del cerchio attacca i tre sindaci favorevole alla fusione il giorno dello scrutino dei voti recita una nota di fronte a un risultato che non si aspettavano hanno rilasciato dichiarazioni titubanti e offensive nei confronti degli elettori giorno dopo richiamati all'ordine dei vertici regionali dei partiti hanno detto il contrario approfondimento anche in questo caso della redazione del tg noi al referendum ha vinto il sì e quindi non c'è motivo per non procedere con la fusione dei tre comuni di san romano fosciandola e pieve fosciana nel nuovo comune di appennino in garfagnana lo dicono in un comunicato i sindaci dei tre comuni mariani lunardi e angelini rispondendo così a chi nei giorni scorsi aveva sottolineato come la vittoria del sì nella consultazione referendaria con il 52 per cento dei voti non fosse stata certo nettissima i numeri nudi e crudi sono che in due comuni ha vinto il sì e in uno ha vinto il no scrivono però i tre primi cittadini e quindi la maggioranza dei votanti si è espressa per il sì e solo la minoranza per il no ci dicano quindi perché non si dovrebbe completare la fusione dei nostri tre comuni visto che la maggioranza dei cittadini ci ha dato mandato per farla quindi avanti con la fusione e i tre sindaci spostano la sfida con il fronte del no al successivo voto per eleggere il primo sindaco del nuovo comune vedremo allora concludono mariani lunardi e angelini se l'estrema sinistra la lega nord e di grillini riusciranno ad amalgamarsi e presentare una lista in grado di sconfiggerci politicamente ci fermiamo un altro break per la pubblicità poi ancora qui a parlare di notizia buongiorno con noi ci spostiamo adesso in versiglia lo facciamo partendo da viareggio l'apertura del tirreno cronaca di viareggio che parla ancora una volta del futuro della darsena viareggio porto verso l'asta decisiva il bando è atteso entro fine anno costerà meno di un milione regione comune sono al lavoro per mantenerla pubblica naturalmente la darsena bando d'asta l'ennesimo priviareggio porto atteso entro fine anno per una cifra di sotto del milione dovrebbe essere la volta buona quella in cui la società pubblica che gestisce l'approdo della madonnina ed è titolare anche della concessione al triangolino finisce nelle mani della regione toscana che ha stanziato un milione per l'operazione nell'ultimo mese da più parti sono circolati voci di una possibile istanza di fallimento da parte di qualche nuovo creditore voci che si sono rincorse tra studi di avvocati e di commercialisti della città sostenute dal fatto che viareggio porto è in ritardo con alcuni pagamenti per non parlare dello stato in cui versa l'approdo sul quale sono stati fatti gli interventi minimi di sicurezza dopo le mareggiate che hanno portato la capitaneria di porto lo scorso inverno a interdire l'accesso e l'utilizzo ad alcuni pontili attenzione perché c'è anche una novità che riguarda l'ormeggio nel burlamacca in zona passerella bell'intervento di del comandante della capitaneria di porto giovanni calvelli per mettere ordine all'ormeggio libero nel canale burlamacca dove da ieri è scattato il divieto d'ormeggio sulla sponda lato pisa nel tratto banchina sottostante la passerella pedonale a partire dalla ringhiera compresa fino alla fine dello scivolo in corrispondenza delle scalette compresi una vera ordinanza che cambia il disegno degli ormeggi non dei parcheggi nella zona del porto poi c'è un caso specchi d'acque specchi acqui tassati cifre ridotte per tutti tranne che l'apporto il contenzioso sul pagamento della tassa dovuto all'occupazione degli specchi acqui ha aggravato l'esposizione della viareggio porto per oltre 2 milioni ed era il 2014 quando le revisioni dei conti del comune daniele limberti presidente con i colleghi pucci e sudiano scrivevano che l'indebitamento della società pubblica era eccessivo e sproporzionato rispetto all'attività svolta e ai suoi ricavi tipici la richiesta di pagamento di ic e imu sugli specchi acqui aveva attraversato la darsena inviata dalla viareggio patrimonio oltre 4 milioni e mezzo di notifiche a cantieri e a prodi turistici qui c'è un tentativo insomma di screditare la viareggio porto sfogliamo ancora il tirreno per la cronaca di viareggio e andiamo nelle pagine interne un paese assediato dai rifiuti allora parte un concorso poi si va scusate si va sull'online e lo facciamo attraverso versilia today non parliamo dell'apertura trionfale dei comics and games ma del pezzo all'atere operazioni operatori allezioni di turismo ecco qua quali prospettive ci sono per il turismo come intercettare i nuovi clienti come fidelizzarli quale strategia adottare per ottimizzare risorse e spese se ne è parlato all'educational organizzato da apc associazione albergatori balneari e commercianti di lido di camaiore a questo proposito vi propongo il servizio curato dalla redazione di noi tv versilia da massimo mazzolini quali prospettive ci sono per il turismo come intercettare i nuovi clienti come fidelizzarli quali strategie adottare per ottimizzare risorse e spese se ne è parlato all'hotel bracciotti all'educational organizzato dall'abc associazione albergatori balneari e commercianti di lido di camaiore al quale hanno partecipato operatori del turismo di tutto il comprensorio versiliese al corso erano presenti anche il sindaco di camaiore alessandra del dotto e la presidente degli albergatori del lido maria bracciotti uno dei nostri motti è chi non si forma si ferma partiremo proprio da da oggi dal 30 di ottobre una serie di incontri interessantissimi per gli operatori turistici di formazione quindi di di marketing applicato sulla sull'ospitalità in genere non soltanto naturalmente per gli albergatori ma per tutta la filiera turistica per i balneari per i commercianti per gli agenti immobiliari un 50 per cento di qualità e di successo del sistema turistico che dipende sicuramente da quanto le amministrazioni sono in grado di programmare di fare ovviamente servizi di qualità mi riferisco anche soprattutto al servizio di raccolta di fiuti ma anche semplicemente alla manutenzione dei luoghi c'è poi un 50 per cento di di successo del sistema turistico che invece dipende dai nostri operatori cioè dai sorrisi e dagli occhi di coloro che stanno nelle reception degli alberghi a fare camerieri nei ristoranti oppure negli stabilimenti balneari della nostra costa o anche nelle nelle zone e nei bed and breakfast dell'entroterra ad accogliere i turisti sempre operatori a lezione di turismo da versilia today il corso primo di tre lezioni è stato ottenuto da mattea bonazza socio di hotel clinique società di consulenza nata proprio per affiancare strutture destinazioni turistiche nello sviluppo del proprio brand della propria attività quali peculiarità offre come farle crescere all'esterno ascoltare soddisfare le esigenze del turismo come farsi trovare pronti dalle novità di mercato poi andiamo al varignano attraverso lucca in diretta perché è accaduta una tragedia ieri cade da un terrazzo e more in realtà è caduto in casa tardo pomeriggio al varignano secondo le prime ripostruzioni un 86 n del posto è morto cadendo nella sua abitazione in via della vetraia il fatto è accaduto intorno alle 16 sul posto oltre all'ambulanza inviata dalla centrale unica del 118 anche i carabinieri per accertare la dinamica di quanto avvenuto sempre dall'online andiamo in versilia l'apertura è come detto dedicata all'imprenditore a lezione di turismo e poi ci sono tutte le notizie di cronaca di giornata e a proposito di cronaca lasciamo la versilia passiamo alle cronache nazionali anche se siamo molto vicini perché in apertura del di online e di alcuni giornali c'è una notizia che arriva da massa uccide il fratello per l'eredità lo ha travolto col furgoncino nel giardino della villa contesa prima lo ha investito poi gli si è passato sopra più volte con il furgoncino doblò facendo retromarcia girando intorno al corpo ormai senza vita quasi a voler prendere la mira quasi a volerlo cancellare dalla faccia della terra così a massa marco mario casonato 62 anni ha ucciso il fratello piero alessandro di 60 la stessa notizia la troviamo in apertura della pagina nazionale il dorso della nazione quotidiano nazionale ucciso dal fratello finisce in tragedia una faida familiare al centro delle liti una villa monumentale c'è la foto di questa villa poi l'arresto di marco casonato sopra villa massoni e in basso la vittima piero casonato una vicenda davvero drammatica la troviamo anche sugli online andiamo sul corriere della sera a parte le vicende legate a new york massa carrara uccide fratello con l'auto per una villa contesa si tratta di villa massoni marco casonato psichiatra e criminologo avrebbe travolto con la sua auto il fratello piero uccidendolo i due erano in lite per la proprietà della storica villa massoni di massa ecco quanto accaduto ieri pomeriggio poi rimaniamo alle cronache nazionali lo facciamo attraverso ancora la nazione parliamo di pensioni e bonus bebè perché ci sono delle faide interne oggi c'è un incontro fra governo e sindacati ma soprattutto il pd chiede al primo ministro gentiloni di cambiare rotta ci fermiamo ancora la pubblicità e poi l'ultima parte di buongiorno con noi prima parte di buongiorno con noi e lo facciamo questo questo ultimo blocco parlando di sport e partendo dagli sport locali prima di parlare della serie c parliamo di campionato nazionale dilettanti che noi tv segue da molto vicino ieri c'erano le partite e allora vi dico che il givizzano borgo ammozzano era impegnato sul campo del finale ligure e ha vinto 2 a 1 era un turno infrasettimanale i bianco azzurri sono andati in vantaggio su rigore poi raggiunti e trascinate da di paola hanno fatto il colpaccio la squadra della media valle ora ha scavalcato proprio gli avversari diretti di ieri in classifica garfagnini e c'è riferimento anche al castelnuovo nel campionato di eccellenza beffati invece proprio all'ultimo tuffo perché dopo un buon primo tempo i giallo blu sono stati puniti dal cuoio pelli in trasferta 5 secondi dal novantesimo io voglio parlare però della gara del giviborgo di paola come una sentenza dopo un lungo digiuno che durava da 9 partite il giviborgo torna alla vittoria sfata il tabù trasferta il numero 9 bianco rosso sigla una doppietta fondamentale ma grande merito va dato a tutto il gruppo che dimostra di essere maturo e schianta con intelligenza il finale partenza boom per la squadra di venturi che attacca la profondità si conquista un calcio di rigore per atterramento proprio di di paola dopo appena sei minuti lo stesso numero 9 prende la palla la piazza sul dischetto la scala venta in rete con personalità spiazzando il numero 1 del finale porta ma il finale si rimette in ordine comincia a sferrare attacchi pericolosi con grande intensità di palleggio e manovra specie dalla destra dove l'ala va come un motorino tanto da spaventare cannella comunque attento e bravo ad alzare in corner una conclusione che arrivava proprio dall'esterno al 31 si concretizza il pareggio calcio d'angolo ben battuto e tocco vincente di antonelli ritmi elevati non ci sono pause sei minuti dopo un altro rigore per i bianco rossi fischiato dopo un tocco di mano in aria stavolta dal dischetto si presenta frati ma l'esecuzione ha meno fortuna porta si oppone e nega la rete del possibile 1 2 l'errore dagli 11 metri affievolisce lo spirito del givi borgo che chiude il primo tempo in sofferenza poi però nella ripresa la coppia pagano di paolo pagano di paola è micidiale e sigilla il raddoppio con la stoccata vincente del numero 9 che ancora una volta viola la porta del finale ligure poi girandola dei cambi gestione e venturi l'allenatore simone venturi del givi borgo che porta a casa una vittoria fondamentale non era facile tornare con tre punti soprattutto perché venturi nell'ultimo momento ha dovuto fare a meno di diana ennesima defezione di una difesa in piena emergenza la squadra però ha saputo gestire scusate la situazione in maniera ottimale siamo stati bravi e pazienti ha detto l'allenatore bianco zurro nel primo tempo abbiamo sofferto un po la fisicità e l'alta intensità del finale pericoloso soprattutto nei calci piazzati bene il givi borgo quindi che ha vinto la prima partita in trasferta sempre parlando di sport locale dopo appunto la sconfitta emeritata del castelnuovo del quale vi abbiamo già detto in virtù dei titoli castelnuovo con la foto di edoardo micchi che ha dovuto indocare in goiare boccone amaro di una sconfitta al cesarini del del cuoio pelli a cinque secondi dal novantesimo poi però si parla di lucchese perché perché la lucchese torna in campo domani sera lo fa nella trasferta di viterbo vi ricordo a proposito di lucchese l'appuntamento di questa sera con curva ovest con solito appuntamento aperto ai tifosi che possono commentare quanto sta succedendo in casa rossonera al di là della vittoria per 3 a 2 in casa di domenica scorsa con la carrarese c'è la vicenda societaria e poi c'è questa gara con la viter bese e e soprattutto vi dico che curva ovest questa sera inizia con qualche minuto di ritardo per dare spazio alle 21 a tg comics c'è l'approfondimento sulla nazione calcio lucca obbedio si è moltiplicato per tre perché perché oltre a fare il ds seguirà le donne e il settore giovanile mentre tutto tace scrive emiliano pellegrini in merito all'eventuale cessione della lucchese con l'imprenditore todini che dovrebbe essere ancora in pole position la società ha chiesto ad antonio obbedio di occuparsi del settore giovanile ed anche della squadra femminile il buon antonio da grande aziendalista ha risposto obbedisco ma non chiamatemi direttore responsabile del vivaio rosso nero mi piace di più la parola supervisore intanto però antonio obbedio deve lavorare anche al mercato c'è un nome su tutti quello di arrigoni tommaso arrigoni capo cannoniere della lucchese con quattro reti arrivato in estate dopo la delusione per la retrocessione con il lumezzane è uno dei migliori della categoria un paio di società hanno hanno già bussato per dargli un posto da titolare in serie b il ragazzo merita queste attenzioni con obbedio che ancora una volta dimostra di saper scegliere come non mai giocatori che poi hanno mercato anche nel difficile campionato di serie b lasciamo le vicende del calcio locale e parliamo invece di cronache nazionali sportive lo facciamo con la gazzetta dello sport l'apertura è dedicata al napoli che è stato battuto in casa in champions league dal manchester city 4 a 2 il titolo è insegne sì ma pep insegna un grande lorenzo non basta scusate la squadra di sarri ci prova quella di guardiola è più forte la vittoria poi dello shaktar sul feonord rende adesso difficilissima la qualificazione l'approfondimento di alessandro de calo contano le idee ma anche i soldi poi ancora per il calcio in alto il ringhio di montella la risposta a fassone risultati con il gioco questa sera il milan gioca alle 19 con la e cup atene ci sono state anche le critiche di berlusconi filippo inzaghi che dice atene il mio ricordo più bello sogno una finale tra i rossoneri e la lazio di simone si parla naturalmente di europa league europa league che vede impegnata anche l'atalanta con gasperini che carica i suoi chiudiamo la pratica in attacco spazio a petagna ilicic caicedo è l'anti balotelli così la lazio prova a vincere il girone questa sera infatti a roma arriva il nizza e con una vittoria la lazio avrebbe già passato il girone c'è poi una polemica in casa juventus di bala in difficoltà strigliato calo pochi gol e nervi tesi la juve interviene il club non ha gradito il lancio di palastinchi dopo la sostituzione nella gara con lo sporting lisbona comunque non ci sarà una multa sarà soltanto richiamato poi anche due parole su di francesco che in cinque mosse si è preso la roma roma che martedì sera in champions league ha battuto strapazzandolo niente meno che il celsi di mister antonio conte chiudiamo con il tennis l'intramontabile spagnolo nadal è ancora il numero uno e dice non è da tutti batte chung a parigi berzi e si assicura il primo posto a fine stagione nessuno c'era mai riuscito dopo i 30 anni c'è poi il commento di gianni valenti gli aggettivi per definire la sua grandezza sono stati consumati tutti da tempo allora è più semplice dire che rafa nadal è un campione che ha pochi uguali nella storia del tennis e dell'intero sport ricordiamo che poche settimane or sono c'era stata la sconfitta di nadal contro un altro grandissimo della sua generazione ovvero contro federer e quindi sembrava davvero che i due non fossero intenzionati in nessun modo ad abdicare bene così è stato perché anche ieri sera a parigi berzi battendo chung rafa nadal ha conquistato il numero uno nella classifica dell'atp bene è davvero tutto per questa rassegna stampa un ultimo controllo sull'online per vedere se ci sono stati se ci sono delle novità la repubblica punto it apre con l'omicidio reggiani le bugie di cambridge sui rischi di giulio la repubblica in edicola ci sono tanti documenti sul ricercatore che confessò le sue paure ma la tutor disse è un attivista il pm dicono che l'università ora deve collaborare c'è poi la notizia che arriva da torton in colorado spari in un centro commerciale tre vittime questo all'uno e mezzo di stanotte in una cittadina a 16 chilometri da denver due aggressori in fuga ignoti i motivi dell'assalto chiudiamo con l'attentato di new york la polizia sapete che un uomo con la propria auto si è lanciato a tutta velocità su una pista ciclabile uccidendo otto persone la polizia il killer ha seguito indicazioni isis l'fbi annuncia abbiamo trovato un presunto complice trump tuona per quell'assassino c'è solo la pena di morte 8 morti e 12 feriti nel cuore di new york è davvero tutto per questa edizione di buongiorno con noi che torna domattina puntuale su noi tv buona giornata